Do subitissimo il benvenuto ad Alberto Bisin, professore New York University. Buon pomeriggio, bentornato sulle fonti. Grazie, è un piacere essere qua. Dunque le chiedo innanzitutto un commento sulle dichiarazioni di Powell. Sono leggermente in ritardo, ne abbiamo parlato proprio con lei del fenomeno transitorio. Lei ne ha parlato anche in altre sedi perché si è verificata la spirale inflazione salari e dunque effettivamente non lo si può più negare. Sì, è difficile negarlo. Appunto Powell lo ha fatto ieri. La parola transitorio sta diventando un pochino ridicola e questa è la ragione per cui Powell ha cercato di ritirarla. Resta la questione di quanto di questa inflazione sia dovuta a ragioni tecnologiche, di offerta e quanto invece sia dovuta a ragioni di domanda. Alla fine la parola transitoria voleva arrivare lì, cioè voleva argomentare che l'inflazione fosse un fenomeno di offerta soprattutto e non di domanda. Oggi sembra più difficile farlo, ci sono effetti sui salari, eccetera, che ci fanno pensare che oggettivamente ci siano fenomeni di domanda importanti. Ecco, effettivamente è così. Le chiedo un commento giusto per quanto concerne il timing perché ovviamente ieri si è scatenato Twitter, ma non soltanto, anche le TV che coprono argomenti economico-finanziari. E effettivamente più economisti hanno giudicato il timing un po' anomalo, nel senso che lo si poteva scegliere anche un mese fa la riunione della Fed, la riunione ufficiale prima della conferma di Powell, effettivamente. Sì, sì, questo sembra ovvio. Molto strano, molto strano che sia successo ieri, nel mezzo dell'arrivo di Omicron, i mercati erano già molto nervosi, quindi non lo so se ci sia una ragione dietro. Chiaro che è molto strano, è chiaro che comunque tutti stavano aspettando una reazione della Fed al fatto che fondamentalmente i commentatori, gli economisti e gli operatori sui mercati avevano capito che la transitorietà di questa inflazione, se anche fosse comunque transitoria, soprattutto di offerta, comunque c'è un elemento di domanda forte, non si capisce bene quanto ancora, ma c'è, quindi tutti quanti si aspettavano un apposizionamento della Fed su questa dimensione, evidentemente l'avano programmato e lo hanno fatto comunque. Comunque certo, in ritardo, è un po' che ce lo aspettavamo, certo. Solo per capirci, c'è il rischio di stagflazione, essendo che hanno scelto questo momento di incertezza, noi non facciamo parte dell'allarmismo e cioè c'è la variante Omicron, non è la prima, non è l'ultima che ci sarà senza alcun dubbio, però effettivamente abbiamo assistito a delle chiusure piuttosto importanti in Europa e non soltanto, proprio non ci sono i voli da, non lo so, gli Stati Uniti per esempio verso l'Africa e viceversa, e non soltanto, comunque si sono interrotte gli spostamenti di nuovo e quindi considerando comunque il pericolo che c'è, c'è un possibile efficacia minore nei confronti di questa variante con una politica monetaria aggressiva, e cioè verso la normalizzazione, per quanto concede negli Stati Uniti, potrebbe, come dire, riportare ad una stagflazione? Ora, la parola stagflazione fa molta paura, perché riporta agli anni 70, almeno a me, credo a tutti gli ascoltatori, io non vorrei andare lì e non c'è dubbio che se la variante Omicron diventa particolarmente rilevante da un punto di vista di infezioni, ma anche da un punto di vista di ospitalizzazione nel caso in cui fosse più severa della Delta. Cioè in una situazione di quel tipo è chiaro che quello che succederà probabilmente è che ancora poca gente tornerà a lavorare, ci sarà molta tensione a lavorare di persona, molta tensione sul mercato del lavoro, e in un contesto monetario dove la Fed restringe, questo può generare dei problemi. Io credo che, però, per quanto poco uno possa affidarsi delle banche centrali, io credo che sappiano benissimo, siano perfettamente coscienti di questo, e credo che generalmente, politicamente, è sempre più facile intervenire in maniera espansiva che non restrittiva. Quindi se dovesse succedere che i mercati reali come dire, ricevano una grossa botta da Omicron, io sono sicuro che la Fed reagirà in maniera, diciamo così, ancora una volta espansiva, e anche la politica fiscale. Quindi non sono troppo preoccupato, però è chiaro che questa è una questione, sono d'accordo. Allora, per quanto concerne invece la politica della BCE, che numero dobbiamo vedere in termini di inflazione per, come dire, mettere da parte il termine transitoria anche del comunicato stampa della BCE? Poi ricordo che proprio ieri abbiamo visto i numeri dell'Eurozona al 4,9%, questo su base annuale, quindi possiamo arrotondare al 5%, in Italia quasi del 4%, in Germania del 6%, in Spagna, credo, vado a memoria, circa il 5%, insomma, anche qua incomincia a sentirsi, poi per carità sono stati anni che si cercava proprio a, come dire, aumentare l'inflazione dell'Eurozona. Sì, credo che, probabilmente non ci siamo molto lontani anche in Europa, non so quale sia il numero, ma credo non ci saremo molto lontani, non c'è dubbio però che, diciamo, la politica monetaria in Europa è tendenzialmente, vorrei quasi dire ideologicamente, nel senso di Lagarde, un pochino più espansiva, no? In effetti, un po' di vaghezza nella definizione degli obiettivi che c'è certamente in America con il passaggio al target in media e in Europa, che non è proprio così formale, ma è insomma simile, diciamo, si è dato un pochino più di discrezionalità alle banche centrali, io non credo che questa sia cosa buona in generale, ma comunque c'è, credo che ci sia un po' più di discrezionalità e credo che la Banca Centrale Europea la stia utilizzando, quindi non è solo, c'è una questione reale che l'inflazione in Europa è un pochino più bassa e è possibile che sia, o ci pensiamo che sia forse più di offerta che non di domanda rispetto agli Stati Uniti, ma c'è anche una questione ideologica e di discrezionalità, maggiore discrezionalità ultimamente nelle banche centrali, quindi credo che non ci siamo lontani, ma non ancora insomma. Ecco, se dovesse essere accompagnata anche ad un rialzo dei stipendi, sarebbe, come dire, un po' inevitabile togliere la transitorietà? Certo, 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 il mercato del lavoro è cruciale in questo, certo. E intanto volevo fare un passo indietro e tornare negli Stati Uniti, giusto per capire in termini di inflazione, oggi abbiamo visto il report dell'Ox, che afferma, appunto dopo Powell, che comunque l'inflazione rimarrà con noi per un bel po' di tempo, non solo negli Stati Uniti, ma a livello globale, naturalmente, è un'istituzione piuttosto credibile, per carità. Volevo capire l'agenda di Biden, che oltre a espansiva sono passati adesso più piani, infrastrutturale, fiscale e così via, coincide, insomma, impatta in qualche modo nel lungo termine l'inflazione negli Stati Uniti o si tratta effettivamente di investimenti di ultra lungo termine? No, credo di sì, credo che impatti nell'inflazione, credo che impatti molto politicamente, abbiamo visto tentativi, diciamo, della sinistra democratica, di girare, diciamo, in generale l'inflazione fa abbastanza ancora paura negli Stati Uniti, non è la Germania, ma fa ancora abbastanza paura negli Stati Uniti e quindi la politica deve reagire e abbiamo visto dei tentativi di, come dire, girare la questione dove si dice, ah, l'inflazione è dovuta all'avidità delle grosse multinazionali che alzano i prezzi, eccetera, no, questo è un tentativo, questo, a parte l'assurdità dell'argomento, fondamentalmente assurdo, non perché i monopolisti non siano avidi, ma perché non lo sono diventati di più oggi rispetto a ieri, sono sempre stati, quindi non è quello il fenomeno che scatena l'inflazione, però questo, questo posizionamento della sinistra democratica è un segnale, secondo me, che, come dire, è necessario reagire, da parte loro è necessario reagire a una reazione popolare un pochino spaventata dall'inflazione, quindi non solo sui mercati, ma in generale anche a livello diciamo popolare dei cittadini, e quindi in questo senso questa è una questione, ora, quanto ancora una volta questa inflazione sia dovuta alle politiche espansive fiscali di Biden presenti e previste future e quanto ad altri fattori è sempre molto difficile distinguere, però certamente c'è un elemento, c'è quell'elemento e certamente Biden come dire, in qualche modo dovrà reagire a questo. Allora, ultimissima domanda che invece riguarda i modi che lei ha citato, lui ha cercato effettivamente di intraprendere un'azione, io sto parlando di quello più recente, cioè di liberare scorte strategiche di petrolio, poi in un timing importante, cioè prima delle feste di Thanksgiving, perché è ovvio che tutti gli americani sono andati a fare un weekend lungo magari e dovevano riempire la macchina con benzina che effettivamente costa molto di più, poi ricordiamo sempre le dinamiche che i mezzi pubblici negli Stati Uniti a parte New York non sono proprio efficienti e dunque tutti si spostano in macchina, non si può non notare il rialzo dei prezzi della benzina, cosa ha deciso Biden di trovare, anzi di fare un'azione comune insieme con un alleato strano e c'è la Cina, poi c'è l'India, Gran Bretagna, Corea del Sud e così via e liberare le scorte strategiche poi giustamente non poteva sapere che sarebbe arrivato l'omicron a scombussolare il mercato, come commenta questa mossa? No beh, ovviamente è una mossa politica intelligente, utile in generale, certo, quando prima dicevo che l'inflazione genera reazione a livello anche popolare negli Stati Uniti, lei ha assolutamente ragione, il meccanismo fondamentale è la benzina, gli americani sono molto dipendenti a trasporti individuali, come giustamente diceva, molti vivono nei sobborghi e fanno mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora di commuting in auto tutti i giorni e poi in più a Thanksgiving naturalmente vanno via, quindi non c'è dubbio che i prezzi energetici sono la variabile cruciale, ce ne sono tante altre, ma all'interno dell'inflazione è abbastanza cruciale, quindi da politico intelligente Biden ha reagito su quel punto. C'è stato però poco impato bisogna dirlo? Beh, ha provato, certo, poi ci sono tanti altri fattori, certo, però dal suo punto di vista questa è stata la mossa ragionevole che non sia particolarmente riuscita, certo, è un problema per lui ed è una delle ragioni per cui si continua a parlare della questione di inflazione appunto a livello politico, non solo a livello dei mercati. Grazie mille ad Alberto Bisin, professore New York University, grazie per essere stato con noi e alla prossima occasione. Grazie, a presto.